Benvenuti in questo nuovo video, oggi giocheremo a questo nuovo gioco Start, vediamo Già partiamo e c'è questo robot Schiva, abbiamo schivato un tiro E ora dobbiamo tirare un pugno Schiviamo, no ci ha colpito Pugno Pugno Ok, ha dieci di vita Schiviamo Pugno, è morto Abbiamo superato il primo livello Vabbè, ora abbiamo il secondo livello Questo secondo me è più forte Pan No, mi ha preso Ok, questo è più vita Ok, eppure lui è morto Ora ho visto che andiamo nel... c'è il negozio C'è una scatola Uno scudo Allora, una nuova abilità Di qua non ci sono altre cose che possiamo prendere? No Iniziamo Un dinosauro Un dinosauro così a caso Bloccato Ok Pugno Scudo Pugno Pugno Cos'è questo? Ok In faccia Pa Sulla spalla Schivato In faccia Blocco Pugno in faccia Ok Per ora Stiamo andando bene Ok Negozio Ci ha dato questo gratis Ci ha dato una super cassa Un missile Qui che possiamo fare? Ah, il missile E lo usiamo a equipaggiare Ora andiamo a giocare No Vabbè un drago Una missilata E un cazzotto in faccia Pugno Missile Ok Per ora Mi sta diventando facile Ah, abbiamo tutte queste cose Buono Abbiamo dei nuovi nemici Però prima Vabbè Questo sembra il mostro di Loch Ness Brutto No, una pianta Pugno Uno Terzo Pugno Beh, questa è abbastanza facile Andiamo Non lo voglio Ok, ora c'è un altro mostro Ragazzi Mi sembra un robot Io non lo voglio Non li voglio Ok, adesso sono più forti Ah, no Pugno 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 Va bene Ok, ora voglio andare un po' nel negozio Per vedere Per prendere qualche arma Nuova Posso prendere questo Ma Cos'era? Un'altra cassa gratis E un'armatura Abbiamo Questo Pogno Che non si sa Cosa sia E Questo Siamo diventati Molto più forti Voglio andare contro La palla Sdiotti Ma Ok Schivato Preso Ok Schivato Schivato Preso Preso Va bene Sto Che prende Questo gioco Ragazzi Ora ci dice Qua stanno Le missioni Abbiamo Scattato E qua Possiamo potenziare Anche le armi Io direi Di potenziare Questo Ok Ragazzi Abbiamo potenziato Quest'arma Vediamo Un Drago Di me Un In questo caso Ragazzi Ora andiamo Contro Questo Ragazzi Se non vi siete ancora iscritti Iscrivetevi Lasciate un like Attivate la campanellina Condividete I vostri I nostri Video Con